Ciao a tutti! Il nostro viaggio è iniziato da un paio d'ore. Siamo in viaggio verso un posto speciale per passare il Capodanno. Adesso finiamo di pranzare e poi riprendiamo il viaggio. Se vedete le guance rosse perché ho la lingua calda. Questo riso è un po' caldo, quindi fa arrossare anche le guance. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video! 5 per 1, 5 per 2, 10, 5 per 3, 15, 5 per 4, 20, 5 per 5, 25. E' un po' caldo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti